Robin, vieni da noi! Lui è il grandissimo rubber! Anche tu ti stavi abbuffando un secondo fa! Sembravi uno della Frankie Family, lo sai? Family! Devo rifare, ho sbagliato battuta! Anche tu ti stavi ingozzando un secondo fa! Sembravi uno della Frankie Family, lo sai? L'ho sempre detto fa... Non ci credo, non è possibile! Ho sbagliato, salve, sono Federica Valenti e sono la doppiatrice di Chopper, molto brava! Almeno mi hanno detto che il personaggio vi piace molto, tolgo la cuffia, vabbè, ormai è un'abitudine! È troppo crudele Robin, smettila di prego! Ricomincia la serie e io sono molto contenta e speriamo che il nostro Chopper rimanga il più possibile piccolo perché quando ho iniziato a doppiare la serie, insomma, ad un certo punto questo personaggio ci sono dei momenti in cui diventa molto, molto grosso, io speravo che effettivamente lo doppiasse qualcun altro invece mi hanno detto, no, lo devi doppiare tu! Mi rendo conto che, so, probabilmente vi farete delle grasse risate, però, insomma, spero che in questa seconda serie rimanga piccolino, un po' come sono anch'io! Questa serie è molto divertente, io sono molto imbarazzata perché non mi piace moltissimo stare davanti al video un grosso bacio e spero che vi piaccia anche questa nuova serie di One Piece un bacio, grazie, ciao! Sono Federica Valenti e sono troppo Ambition! Grazie a tutti!